Ho buone notizie per te. Come ogni anno, faremo una gita scolastica. Quest'anno andremo nel Mar Baltico. Ok cari studenti. Sono tutti lì. Siamo pronti a partire. Hai impacchettato tutto, cara? Sì papà, credo di sì. Andrai nel Mar Baltico per due giorni, giusto? Sì, proprio così. Sì, saremo lì per due giorni. Hai anche messo in valigia abbastanza cose calde? Fa piuttosto freddo sul Mar Baltico. Sì, ho messo in valigia la mia giacca spessa. E hai preso il cibo di tua madre? Sì, ho papà. Con chi dormi in una stanza? Ho una stanza con Sara. Questo è buono. Papà, non preoccuparti. Sto via solo due giorni. Mi manchi già. Ora me ne vado, papà. Quindi stai davvero andando in gita scolastica? Sì, andiamo nel Mar Baltico. Non hai niente di meglio da fare? Non dovresti piuttosto studiare? Allora non andavamo in gita scolastica. Studieremo anche lì. Abbiamo lezioni ogni giorno. Lo spero. Altrimenti, dovrò parlare con il tuo insegnante. Ti prego, non farlo, papà. Staremo a vedere. Chi c'è nella tua stanza? Lisa è in una stanza con me. Questo va bene. Ci si può fidare di lei. Possiamo andare? Non voglio arrivare in ritardo. Sì, andiamo. Hai messo in valigia anche le tue medicine, Marcus? Non devi assolutamente dimenticarli. Non aver paura, papà. Ho impacchettato le medicine. Cosa c'è che non va con il tuo costume da bagno? Li hai ritirati? Sì, l'ho fatto. Hai degli amici davvero fantastici. Ci hai messo molto impegno. Quindi puoi venire con me. Ringraziali ancora anche per me. Lo farò, papà. È così bello che tu stia andando in gita scolastica. Questa nuova scuola mi piace sempre di più. Sei eccitato, Jonas? Sì, sarà sicuramente fantastico. Tutti nella mia classe sono così gentili. E quella cattiva ragazza se n'è davvero andata? Qual era di nuovo il suo nome? Sì, Clara ha dovuto lasciare la scuola. Non aver paura, papà. Non ci causerà altri problemi. Molto buono. Tua madre ha preparato qualche altro dolce per te. Non mangiarne troppi in una volta. Altrimenti ti verrà mal di pancia. Lo farò, papà. Perfetto, allora siamo pronti per partire. 1,2,3,4,5,6,7 Perfetto, sono tutti qui. Siamo sulla pista 12. I treni per il Mar Baltico vanno qui. Il nostro treno arriverà tra pochi minuti. Per favore presta attenzione. Non devi stare troppo vicino alla pista. Il nostro treno sta già arrivando. Sei entusiasta della gita scolastica quanto me? Sì, sono davvero felice. Non sono mai stato nel Mar Baltico prima. Ho sentito che dovrebbe essere davvero bello lì. Ci sono molte spiagge. E puoi vedere un sacco di pesci. Spero che saremo fortunati con il tempo. Vorrei qualche giorno di sole. Dormo in una stanza con Marcus. Jonas, con chi sei in una stanza? Moritz e Stefan sono nell'altra stanza. E nell'altra stanza c'è il signor Kunze. Quanto ancora stiamo andando? Penso che saremo lì tra due ore. Ok cari studenti, siamo arrivati. Controlla di nuovo per vedere se hai dimenticato qualcosa. 1,2,3,4,5,6,7 Ok, sono tutti qui. Ora possiamo andare in albergo. L'hotel non è lontano. Per favore seguimi. Camminiamo per circa 10 minuti. Salve. Come posso esserti utile? Buona giornata. Mi chiamo Mr. Kunze. Sono qui con la mia classe. Hai effettuato una prenotazione? Sì, abbiamo chiamato qualche giorno fa. La prenotazione è intestata a Kunze. Ah sì, perfetto. Ti ho trovato. Hanno camere dalla 11 alla 15. Ecco le chiavi. La colazione è sempre dalle 8 alle 10. Per favore non arrivate in ritardo. Il riposo notturno è dopo le 22. Da quel momento in poi, devi stare zitta. Sai già cosa vorresti vedere qui? Sì, abbiamo un programma serrato. Gli studenti hanno molto da imparare. Ho capito. Quindi non hai bisogno di una mappa della città? No, non è necessario. Ok, allora divertitevi nel nostro hotel e con noi sul Mar Baltico. Grazie mille. Ok, ecco le nostre camere. Marcus e Jonas, prenderete la stanza 11. Stefan e Moritz, potete andare nella stanza 12. Julius, avrai la camera singola. Questo è il numero 13. Vado nella stanza 14. Per favore, andate nelle vostre stanze e disfate le valigie. Ci vediamo qui nel corridoio tra 30 minuti. Il tempo all'esterno è migliore del previsto. Dopo andremo in spiaggia. Si prega di portare una crema solare. Hai anche bisogno di acqua a sufficienza. E qualcosa da mangiare. Bussa alla mia porta se hai domande. Va bene, a presto. Cosa ne pensi della stanza, Sara? Va bene. Non è grande come la mia stanza a casa. Ma va bene. Siamo qui solo da pochi giorni. Sì, hai ragione. Il signor Kunze è di buon umore, vero? Sì, decisamente. Probabilmente è anche in vacanza per la prima volta da molto tempo. Questo può essere il caso. Va bene, disfacciamo le valigie e andiamo. Non dovremmo arrivare in ritardo. Il signor Kunze dovrebbe mantenere il suo buon umore. Quindi cari studenti, benvenuti nel Mar Baltico. Questa è la spiaggia di Varnemunde. È una delle spiagge più belle della Germania. L'acqua è molto calda in estate. Non mi aspettavo così tanto sole. Fa davvero caldo. Se hai il costume da bagno con te, puoi entrare in acqua. Ma per favore state attenti. Non ci sono onde, ma la corrente è forte. Hanno detto che stava arrivando un'altra scuola. Quando arrivano gli studenti? Sono già lì. Incontreremo subito gli altri. Ok, ci vediamo qui tra 30 minuti. Ti prego, non andare lontano. Devo essere in grado di vederti. Salve. Devi essere l'insegnante dell'altra scuola. Sì, è corretto. Mi chiamo Mr. Kunze, ma puoi chiamarmi Martin. Che coincidenza. Abbiamo lo stesso cognome. Mi chiamo signora Kunze. Ma puoi chiamarmi Pia. Anche tu sei così sexy? Non riesco più a sopportare il caldo. Ho già le vertigini. Ti va tutto bene? Forse dovresti sederti all'ombra. Oh mio Dio. Dobbiamo chiamare un'ambulanza. Veloce. Chi dorme in una camera singola? A. Contrassegna. B. Marius. C. Giulio. Scrivi un commento.